Scarpa bellissima, taglia giusta, solo che in questo momento non posso permettermela. Cioè, devo inventarmi una scusa. Allora, come sono? Le mettiamo in cassa? Ma in realtà ho i soldi solo sulla carta, non credo di poterle prendere. Guarda che in realtà accettiamo anche i pagamenti con la carta. Ah, io probabilmente devo pagare online con la carta, cioè con Paypal. Paypal non ce l'hai, vero? Certo, abbiamo anche Paypal sul nostro sito e puoi pagare direttamente da lì con Paypal. Sai che alla fine faccio un bonifico e sono a posto, però al bonifico non si può fare, vero? Assolutamente sì, guarda, deposito bancario sempre sul nostro sito e fai un bonifico comodamente. Però io ovviamente intendevo rate, non tutto subito, cioè... Anche rate con Klarna tre comode rate. Faccio così, pago in contanti, però li ho a casa che me li deve dare la nonna. Non c'è problema, vai a casa, ordini in contrassegne e paghi direttamente alla consegna in contanti.